Paolo Germanetto, coordinatore della squadra nazionale di corse in montagna, un esordio ben oltre le più rose aspettative. La tua Borovec? La colpa è dei ragazzi perché oggi hanno corso veramente forte, io sono contentissimo e penso sia contenta tutta la federazione, ma io sono personalmente contento soprattutto per loro perché mi piace ricordare che i protagonisti sono sempre e comunque gli atleti, quindi chi è intorno a loro deve al compito, al dovere di metterli nelle migliori condizioni se possibile per cercare di correre più forte. I ragazzi hanno saputo farlo oggi con tutti i risultati che sicuramente abbiamo ricordato. Sono contentissimo per Berni perché era un oro che inseguiva da tempo e se lo meritava, aveva bisogno solo di trovare il momento giusto, la serenità giusta intorno al gruppo che gli facesse sentire tutto il suo affetto e quello c'è stato. Sono contentissimo soprattutto del gruppo che si è creato perché quando si parla di parrocchia in interno della corse in montagna o quando si parlava probabilmente ci voleva la buona volontà da parte di tutti per creare un gruppo e lavorare insieme e sono contento che questo si sia fatto. Sicuramente oggi la corse in montagna italiana, gli atleti hanno sfruttato anche il periodo di allenamento in altura, la scelta di scendere all'ultimo momento da Sestriere dopo tre settimane per i senior e due per i junior ha pagato, difatti gli atleti sono andati fortissimo nel finale e io sono contentissimo e penso con me tutta la federazione.